A Roma, nelle prossime ore, potrebbe esserci un vero e proprio colpo di scena. Secondo quanto rivelato da Il Corriere dello Sport, infatti, Ivan Juric potrebbe essere isolato e al suo posto potrebbe ritornare Daniele De Rossi, le avvisaglie di Boras, con la contestazione finale ai giocatori che si volevano avvicinare ai tifosi per ringraziarli del sostegno, lasciano pensare che la curva su di in trasferta non farà sconti alla squadra neppure a Monza. Dopo appena quattro giornate, quindi, la posizione di Juric è in bilico con il clamoroso esonero che potrebbe arrivare già nei prossimi giorni, domenica la Roma è impegnata in trasferta contro il Monza. Esonero Ivan Juric e ritorno di Daniele De Rossi alla Roma, il club giallorosso riflette sulla posizione del tecnico. L'addio a De Rossi è ancora nella testa e nei cuori della gente. E le ultime due partite non hanno fatto altro che rafforzare il sentimento di ostilità, la Roma assomiglia sempre di più alle peggiori versioni del breve ciclo De Rossi. La partita di Monza, che precede la sosta del campionato, rappresenta un bivio importante che può addirittura diventare decisivo per le successive mosse della proprietà, se la squadra confermasse il rendimento mostrato contro Venezia ed Elfsborg, niente si potrebbe escludere. Persino un nuovo esonero, con il ritorno a Trigoria di De Rossi.